Ora tutto slitta il 31 dicembre. L'emendamento per la proroga della restituzione delle tasse sospese nel post-sisma passa in Commissione Senato. Le imprese possono così tirare un sospiro di sollievo, ma è solo un modo per prolungare un'agonia economica che piccole aziende e professionisti del cratere sismico non possono più sopportare. Se l'asticella del termine ultimo per la restituzione viene spostata sei mesi in avanti, questo non cambia il nodo del problema perché la parola fine spetta soltanto all'Europa. Un'interlocuzione con Bruxelles è stata già avviata affinché gli sgavi fiscali non vengano più considerati come un aiuto di Stato oppure affinché la soglia del de minimis delle aziende venga innalzato da 200.000 a 500.000 euro. Se ne riparlerà però forse in modo concreto soltanto in autunno quando le istituzioni europee entreranno nel pieno delle loro funzioni dopo il voto di domenica scorsa. È il sottosegretario di Stato con delega alle imprese Maglio Di Stefano oggi alla Camera di Commercio dell'Aquila per partecipare alla tavola rotonda dal titolo L'Italia che funziona arriva a dire che il governo è determinato ad andare avanti su questa strada. Un incontro c'è stato anche tra il sottosegretario e il direttore regionale della Confcommercio. Celso Cioni. È l'unica opzione possibile perché la contrattazione vera è con l'Unione Europea quindi non si può risolvere per norma in Italia bisogna risolverlo per contrattando con l'Unione Europea quindi intanto si proroga e poi con l'Unione Europea si prova a risolvere il problema definitivamente. Purtroppo quella è una mancanza che è avvenuta all'origine del problema quando non è stata comunicata all'Unione Europea dal precedente governo la necessità di interrompere quei pagamenti. Continuare ovviamente ad avere interazione con il governo perché il nostro obiettivo è quello ovviamente di aiutarli e di proteggere le loro aziende. Ma la nuova proroga non basta. Le imprese non hanno le risorse per poter far fronte alla restituzione di somme ingenti. Le imprese sono 124, parliamo di 76 milioni da restituire. Potete immaginare alcune devono restituire centinaia di migliaia di euro che sarebbero diciamo qualcosa di distruttivo per questo territorio e qualcosa che potrebbe creare per questa economia l'ulteriore colpo, un colpo definitivo. Si può pensare che il motore del motore del motore del motore...